Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo in compagnia di UMI Plus E per dare un assaggio ed una prima visione di questo device che poi vedremo meglio nella recensione completa. Entriamo quindi subito nel vivo della nostra anteprima. Ad un primo impatto vediamo che esteticamente presento una scocca realizzata completamente in alluminio salvo le due bande in plastica per la ricezione delle antenne. Verrei però subito alle caratteristiche più salienti del device che monta un processore Helio P20 da 2.3 GHz accompagnato da una memoria RAM e MMC 5.1 da 6 GB prodotta da Samsung di tipo LPDDR4. La memoria interna è davvero molto capiente, parliamo di 64 GB che possono addirittura essere aumentati fino a 256. Samsung in questo caso è anche il produttore del sensore posteriore della fotocamera che stiamo vedendo in questo momento da 13 megapixel ma che analizzeremo più nello specifico nella recensione completa. La batteria montata sotto la scocca è una unità da 4000 mAh sviluppata da Sony. Non dimentichiamoci poi del processore grafico che è una Mali-T 880 a 900 MHz. Non vi voglio ancora svelare a pieno come si comporta nel quotidiano ma vi posso dire che a bordo, andiamo subito a vederlo all'interno delle impostazioni, è montato Android Marshmallow in versione 6.0.1, lo possiamo vedere anche qui, con un livello di patch di sicurezza tra l'altro aggiornatissimo al 5 dicembre 2016. La personalizzazione è abbastanza scarna come possiamo vedere anche dal menu che assomiglia in tutto per tutto a quello di Android Stock tranne alcune voci ma diciamo che Umi ha messo lo zampino su qualche aspetto che spesso annoia su altri terminali come ad esempio nell'interfaccia della fotocamera che attiviamo subito con il tasto programmabile qui sulla sinistra, vediamo che si è attivata immediatamente e notiamo appunto come l'interfaccia è completamente diversa rispetto a quella stock di Mediatek. I temi più salienti di cui parleremo tra qualche giorno, cioè all'interno della recensione completa, riferendoci a questo smartphone, saranno sicuramente quello dell'ottimizzazione, un tema tra l'altro molto caldo in casa Umi che qualche giorno fa si è interrogata se questo aspetto fosse essenziale per il proprio nuovo flagship e poi del Wi-Fi che in questo momento lo sto utilizzando ma non è mai stato utilizzato nonostante in casa sia presente una connessione Wi-Fi ma capiremo poi nella recensione completa il perché di questo non utilizzo del Wi-Fi. Vi aspetto quindi nei videotest dei prossimi giorni ma soprattutto nella recensione completa di questo Umi Plus E. Un saluto a tutti da Luca per GizChina.it Un saluto a tutti.